Innanzitutto è stata fatta una riforma costituzionale a colpi di maggioranza, con ricatti, il classico atteggiamento di Matteo Renzi, mettendo in condizione il Parlamento di non poter dibattere senerenamente. Contrariamente a quello che si era fatto nel 2006, e qui verrebbe spontanea fare una domanda al collega Napolitano, che ci sembra un po' ipocrita, nel 2006 quando qualcuno si avventò contro la riforma fatta dal centro-destra, che era sicuramente meglio di questa, non disse assolutamente nulla. Ma detto questo, il problema è che ci viene consegnata una riforma in cui innanzitutto il Senato non viene abolito, viene fatto un Senato che è un pasticcio, consiglieri regionali che non si sa bene chi viene eletto e non vengono eletti, tra l'altro il periodo transitorio sarà un macello, e in più cos'è? La riforma del titolo quinto ha una chiara e precisa intento politico, quello di Renzi, quello di svuotare gli enti locali centralizzando e riportando a Roma tutte quelle che erano competenze che giudiziosamente venivano anche gestite nelle province in cui lui ha fatto finta di cancellare, perché le province sono cancellate ma ci sono ancora, sono a mezzo servizio, non vengono più eletti dei cittadini, è un macello, è un casino generalizzato, perché lo vediamo sui territori, chi ha amministrato nei territori, come il sottoscritto, purtroppo vede una realtà, che abbiamo delle province che erano serie, perché andavano tolte le province che non avevano senso di esistere, non la province in cui gli amministratori di sinistra, di centro-destra, prescindere dall'appartenenza politica, hanno bene amministrato. Oggi ci viene consegnato un paese in cui la periferia, l'ente locale viene annientato, viene centralizzato tutto, la riforma del titolo quinto, questo è da vedere, e questo qui è purtroppo quello che abbiamo in questa Costituzione.